Come risolvere così i problemi riguardo a Fortnite, capitolo 5, stagione 3, quindi in questo caso se avete problemi di crash in questa nuova stagione è possibile risolvere i suoi problemi scaricando vari driver per il proprio sistema operativo. In descrizione ti ho lasciato il pacchetto che ti potrà sulla pagina per scaricare tutti i driver che servono per il computer e per tutti i driver da aggiornare per Fortnite, ovviamente c'è il pacchetto che ha funzionato nel capitolo 4 di Fortnite che ho fatto anche tanto tempo fa, una guida di tantissimi mesi fa, quindi in questo caso prima di andare a scaricare e installare questo pacchetto andiamo un attimo su Epic Games, andiamo nella nostra libreria di Epic Games, Andiamo sui 3 puntini, vai su Opzioni, per risolvere il problema di crash togli così la textura adatta alla risoluzione e la shader Sterectics 12, quindi la spunta la devi togliere da qua, la prescarica delle risorse trasmesse questa la devi mettere e basta, notta fatto, fai Applica, 3 puntini, andiamo di nuovo su Gestisci, andiamo nella cartella Fortnite Game, Binarys, 1.64, scendiamo fino a giù, fino a trovare. L'applicazione del Fortnite client del Win64 Shipping è questa qua, BE, dal suo destro sopra andiamo su Proprietà, Compatibilità, esegui questo programma come amministratore e disabilita ottimizzazioni schermo intero, modifichi impostazioni dpi elevati, metti la spunta su dpi programma e override, sistema avanzato e fai ok e facciamo Applica, stessa cosa la fai anche sul BE. Ok, proprietà, proprietà, combattibilità, mettiamo le spunte qua, facciamo Applica, modifichi impostazioni dpi elevati, sistema avanzato, facciamo ok e chiudiamo qua. Una volta fatto, entriamo così nella cartella di AppData, quindi andiamo a fare Esegui, scriviamo qui Esegui, %AppData%, andiamo su AppData, local, scendi fino a giù, fino a trovare così la cartella di Fortnite Game, cancella così questa cartella, una volta fatto cancelliamo anche le cartelle di Epic Games, però prima di cancellare vi dico solamente che poi dobbiamo rifare l'accesso al nostro account, quindi fare il login. Ora io chiudo Epic Games, cancello Epic Games Launcher, cancelliamo qualsiasi cosa che è collegato a Epic Games, quindi per ora c'è solo la cartella Epic Games Launcher. E basta, AppData, local, vediamo se qua c'è la cartella di Epic Games, non c'è niente, roaming, easy, anti-cheat, non c'è niente di Epic Games. E le abbiamo cancellate. Una volta fatto, chiudiamo un attimo le cartelle e ritorniamo su Epic Games. Eseguiamo il Launcher come amministratore. Mi raccomando, il gioco Fortnite deve sempre avviarsi nella libreria di Epic Games e non fuori dalla libreria. Diciamo Esegui come amministratore. Una volta fatto poi l'accesso a Fortnite, ora quello che ci resta da fare è andare così a installare questi driver, quindi il pacchetto, quindi il link in descrizione. Se avete problemi con il link potete entrare nel mio server Discord e ti mando direttamente io il pacchetto. tasto destro sopra, winrar, e stai in file in Fortnite. Una volta fatta l'estrazione, entriamo così nella cartella, Fortnite, Microsoft Runtime, questo qua c++, e andiamo così a installare tutti i driver. Facciamo installa tutti, qua sopra sul file batch. E attendiamo così l'installazione di questi driver. Facciamo installa tutti i driver. Ok, una volta installati tutti i driver, quello che ti resta da fare ora è riavviare il tuo sistema operativo e quando ritorni sul desktop, apri Fortnite direttamente nella sua libreria, quindi vai su Fortnite, tre puntini, vai su gestisci, entra nella cartella, Fortnite game, binaris, 64, scendi fino a giù. Ed ecco il Fortnite launcher, dai su destra sopra, fai esegui come amministratore e fai sì. Il gioco è andato senza nessun problema di crash anche all'apertura, quindi se avete altri problemi commentate sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao